Intro Bentornato Goodyear, bentornata In questa lezione di Windows 8.1 Update andiamo a vedere cosa sono i menu In pratica è l'insieme delle opzioni che puoi scegliere quando clicchi con il tasto destro del mouse sul desktop sulle icone, immagini, barre e quant'altro vedi sul tuo monitor Già hai avuto la possibilità di visionarli ma comunque non ho mai dedicato una lezione parlandone così specificamente La cosa da far subito tua è la possibilità di visionarli in pratica ogni punto, in ogni rappresentazione grafica che hai sul tuo desktop Sono parte integrante del sistema operativo e rendono più semplice e rapido l'accesso a funzioni che in alternativa sarebbe più difficile raggiungere seguendo i percorsi standard Se ad esempio clicchi in una zona vuota del desktop comparirà un menu come questo mostrato in figura che ti permetterà di eseguire delle scelte relative alla visualizzazione dell'icone, impostazioni dello schermo o la sua personalizzazione A volte nasceranno anche dei menu a cascata in quanto da un'opzione puoi visionarne un'altra serie e così via Potrai creare cartelle, collegamenti a programmi o avviarne direttamente alcuni di essi come mostrato in questo screenshot Un menu particolarmente corposo è quello che si genera cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante Start Il pulsante in basso a sinistra Visionerai moltissimi pulsanti per altre tante opzioni Qui una rappresentazione grafica, un fermo immagine di ciò che apparirà Come puoi vedere potrai accedere direttamente al desktop se ad esempio sei nella schermata Start Oppure disconnettere la sessione di lavoro, riavviare o spegnere il PC Ancora, avviare il programma Esegui che tra l'altro ti permetterà di eseguire alcune operazioni Come aprire una cartella, un documento, un programma eccetera Potrai cercare un file, avviare il programma Esplora File, l'equivalente di Esplora Risorse Accedere direttamente al pannello di controllo Avviare la sezione gestione attività per consultare i processi e i servizi attivi Per chiuderli magari Potrai avviare il prompt dei comandi o normalmente oppure con diritti di amministrazione Per avviare ad esempio dei programmi tramite rica di comando Potrai accedere alla gestione computer del pannello strumenti di amministrazione Per la gestione approfondita del tuo computer Altresì potrai accedere direttamente a gestione disco degli strumenti di amministrazione Per gestire al meglio le tue partizioni o alcune periferiche Potrai verificare le tue connessioni di rete Oppure verificare la funzionalità di dispositivi e la presenza dei driver della sezione relativa Potrai anche accedere a informazioni generali sul sistema Che tipo di sistema hai installato, che configurazione, che architettura Potrai aprire il visualizzatore degli eventi del sistema operativo Per dei controlli oppure eseguire delle diagnosi Potrai anche accedere alla sezione opzioni spegnimento per il risparmio energetico O accedere alla sezione programmi e funzionalità Per aggiungere funzionalità oppure rimuovere e disinstallare quindi dei programmi Infine se eventualmente utilizzi un notebook C'è anche un pulsante che ti permette di accedere al centro portatile pc Che non è nient'altro che questa schermata Che in pratica ti permette tramite una serie di pulsanti Di accedere rapidamente a funzioni e impostazioni più interne al notebook Come vedi un'ampia possibilità di gestione del tuo computer E del sistema operativo tutto a portata di click In questo screenshot ho rappresentato un insieme di programmi Che ho aperto contemporaneamente grazie a questo menu In maniera da poterti far visionare le potenzialità di accedere a questa sezione In maniera molto rapida Senza andare ad individuare l'eseguibile che avvia il singolo programma Altri menu si possono generare Cliccando nella barra delle applicazioni o nella Sistrate Sempre con il pulsante destro Che ti permetteranno di eseguire delle impostazioni O cambiare alcuni parametri del sistema operativo Ti permetteranno di gestire e personalizzare sia la barra E interagire con alcuni programmi installati nel sistema operativo Che saranno mostrati appunto nella Sistrate Si può solo quindi generalizzare come hai ben capito In quanto la visualizzazione delle opzioni Varieranno in base al tuo utilizzo In base al numero e al tipo di programmi Che installerai all'interno del tuo computer Eccoci Goodler nella parte pratica Come detto nella sezione didattica La gestione e la visualizzazione di menu È particolarmente variabile in base ai programmi che hai installato Comunque cliccando con il pulsante destro del mouse In una parte vuota del desktop Nascerà un menu che ti permetterà di eseguire alcune impostazioni Relative alla visualizzazione magari delle icone Potrai mostrarle oppure nasconderle Ordinarle oppure aggiornarle se fai delle modifiche Gestire in questo caso specifico Per quel che riguarda il mio computer La scheda grafica O creare una cartella Un collegamento O avviare alcuni dei programmi installati All'interno del mio computer Scegliere la risoluzione dello schermo O personalizzarlo Altra possibilità è quella di andare ad individuare I programmi installati E cliccandoci con il pulsante destro Verranno generati dei menu Che ti permetteranno di interagire Con il programma stesso Ma quello particolarmente corposo In questo caso è quello che genera il pulsante start Cliccando il pulsante destro Si genera un menu particolarmente corposo Che ti permetterà di visionare il desktop Qualora tu fossi in modalità a piastrelle Oppure potrai chiudere e disconnettere il computer Riavviarlo o spegnere direttamente lo stesso Avviare il programma esegui Che ti permetterà di avviare Tramite un semplice comando Direttamente un programma Potrai avviare Esplora file O ancora Accedere al pannello di controllo O gestione di attività Avviare il prompt di comandi In maniera normale O come amministratore In modo da poter Scrivere una riga di comando E anche in questo caso Poter avviare un programma O impostare dei parametri particolari Nel sistema operativo Ancora potrai gestire direttamente il computer Ed entrare in una zona molto corposa Che ti permetterà di eseguire alcune funzioni Potrai visualizzare la connessione di rete O visualizzare i dispositivi installati E controllare la presenza dei driver Qualora ce ne fosse bisogno Potrai aggiornarli o rimuoverli Puoi andare a vedere i parametri Del sistema operativo In termini di architettura Quanta memoria è installata La tipologia del processore E la versione del sistema E accedere Anche in questo caso Tramite i pulsanti che si presentano Ad opzioni relative al sistema operativo Puoi visualizzare gli eventi Che si susseguono nel sistema operativo Per un controllo o una diagnosi Puoi scegliere opzioni di spegnimento Per un risparmio energetico O infine accedere alla sezione Programmi e funzionalità Che ti permetterà di gestire I programmi installati In termini di aggiunta O rimozioni di funzionalità O rimuovere i programmi Un'altra sezione relativa alla Sins3 Che ti permetterà di variare I parametri relativi Alla barra delle applicazioni Oppure personalizzare o modificare Le icone, la data e l'ora Oppure personalizzare anche La barra degli strumenti E interagire anche con i programmi Visualizzati nella Sins3 Avviandoli oppure modificando Alcuni parametri Direttamente da questa sezione Bene, nella prossima lezione Ti parlerò di una sezione Molto corposa Di Windows 8.1 Update La sezione impostazioni Che è accessibile Tramite la Chance Bar Ora come sempre Un forte saluto Ciao a presto da Carlo E alla prossima Grazie a tutti